I servizi che coinvolgono cittadini e gestori telefonici e pay tv sono gestiti dal Corecom Piemonte attraverso il catalogo digitale Corecom. La procedura per richiedere l'udienza di conciliazione si può attivare anche scaricando dal sistema piemonte.it o dal sito del Corecom i moduli da compilare online e inviare con una casella di posta elettronica certificata PEC. Il modulo può essere anche stampato, compilato a mano e consegnato in tutti gli uffici URP della regione Piemonte.